l'umanesimo è stato un movimento culturale che ha avuto inizio tra la fine del 300 e l'inizio del 400 la caratteristica principale dell'umanesimo è la riscoperta dell'uomo che viene messo al centro di tutto l'uomo quindi al centro dell'universo ed è l'unico padrone artefice del proprio destino ha il cosiddetto libero arbitrio mentre nella visione medievale al centro di tutto c'era dio che aveva già scritto il destino di tutti gli uomini e l'uomo quindi non poteva sottrarsi e anzi si sottometteva al volere al potere della chiesa l'uomo al centro di tutto significa anche avere una maggiore fiducia nella sua ragione nella sua intelligenza che è vista come superiore a tutti gli altri esseri viventi ma anche nelle capacità creative dell'uomo e infatti sboccerà e fiorirà l'arte per tutto il 400 e avrà il suo pulmine proprio nel rinascimento altra caratteristica molto importante dell'umanesimo è la riscoperta dei classici latini e greci per cui molti intellettuali andavano alla riscoperta di questi antichi libri antichi manoscritti custoditi ma dimenticati nelle biblioteche nei monasteri e in questo petrarca se ricordate è stato un precursore per cui questi antichi libri classici che erano stati dimenticati durante il medioevo vengono recuperati e studiati e la parola umanesimo deriva proprio da studia umanitatis cioè lo studio di quelle discipline come la letteratura la grammatica la storia la retorica che erano fondamentali per la formazione dell'uomo in questo momento i centri di diffusione del sapere sono le corti signorili dove si diffonde il fenomeno del mecenatismo ovvero il signore ospita presso la sua corte i vari artisti per cui poeti scultori pittori eccetera eccetera e in cambio della loro arte delle loro opere da loro la protezione e l'accoglienza vittoria e alloggio esattamente come si faceva nell'antica roma con mecenate che aveva ospitato autori come virgilio vitruvio eccetera e tra i mecenati più celebri del 400 abbiamo proprio lorenzo dei medici detto il magnifico ma lorenzo dei medici è stato anche il signore di firenze e uno degli uomini politici più importanti del 400 tanto da essere definito come lago della bilancia d'italia perché fu il garante di un lungo periodo di pace tra i vari staterelli dell'italia ed egli stesso fu un poeta infatti scrisse i canti karnascialeschi detti così perché univano canto e ballo e accompagnavano il carnevale karnascialeschi e tra queste il suo componimento più celebre è il trionfo di bacco e arianna dove invita a godere dei piacere della vita della giovinezza perché il tempo passa veloce e la bellezza sfiorisce infatti il ritornello è molto famoso chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza sempre in letteratura oltre a lorenzo il magnifico abbiamo anche altri artisti come leon battista alberti poliziano e boiardo invece per quanto riguarda la lingua fino all'inizio del 400 il latino era visto come superiore rispetto al volgare però dalla metà del 400 in poi il volgare acquisterà pari dignità rispetto al latino e avrà la sua totale definitiva consagrazione nel rinascimento l'ultima cosa importante da sapere il fatto che la cultura e il pensiero umanista si diffusa grazie a un'importantissima e fondamentale invenzione ovvero la stampa a caratteri mobili di gutenberg nel 1455 grazie a questa invenzione i libri non venivano più scritti dai monaci amanuensi a mano e nonostante fossero delle vere e proprie opere d'arti questi libri erano rari costavano molto e richiedevano molto tempo per essere realizzati la stampa di gutenberg invece produceva il libro come un vero e proprio prodotto industriale la macchina inventata da gutenberg funzionava così si prendevano queste lettere a definire appunto i caratteri mobili mobili perché si potevano appunto muovere si costruiva la pagina dopodiché si metteva il foglio e l'inchiostro e grazie a questa pressa veniva stampata la pagina ovviamente non è come le tipografie di oggi che fanno tutto in maniera molto veloce però questo procedimento permetteva appunto di stampare molti libri in meno tempo e con meno fatica per cui adesso i libri diventano uno strumento per molte più persone che si prendeva appunto di stampa 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 grazie